Un vero far west in piena notte a Fontanelle, così è stato definito quello che è successo nella notte di giovedì nella periferia di Pescara. Una rissa finita bastonate per strada e scaturita per un diverbio tra familiari. Non è bastato l'arrivo di due volanti della polizia a sedare gli animi che dopo l'intervento delle forze dell'ordine hanno ripreso la lite. Oggi, dopo tante denunce, si chiede più sicurezza per i residenti ormai esausti e terrorizzati e il consigliere regionale 5 Stelle, Domenico Pettinari, che tanto si è battuto negli anni per la legalità a Fontanelle, chiede il ripristino di un presidio fisso delle forze dell'ordine senza pensare alla piaga delle occupazioni abusive degli alloggi. Per tutta risposta, questa mattina il sindaco Alessandrini ha affrontato la questione in una riunione svoltasi in prefettura, al termine della quale ha reso noti gli interventi che verranno adottati per intervenire sul caso sicurezza. Noi siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà di Fontanelle, tant'è vero che venerdì scorso siamo andati a un'assemblea pubblica con i cittadini. I problemi di Fontanelle sono, io credo, di due ordine di ragioni. Da un lato la sicurezza pubblica e all'uopo oggi, nell'ambito di un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, abbiamo posto il tema e soprattutto abbiamo richiesto un comitato specifico che affronti la questione Fontanelle ad hoc. Ciò accadrà la settimana prossima e ringraziamo della immediata sensibilità il prefetto. Però, oltre alla risposta dello Stato, delle istituzioni, del sistema sicurezza nel suo essere integrato, vi è, io credo, la necessità della prevenzione. Cioè, la repressione attiene all'ordine pubblico, la prevenzione significa favorire, in qualche modo, la socialità. Con la piena consapevolezza, appunto, che è certo una questione di ordine pubblico a Fontanelle, ma c'è anche altro, cioè c'è la necessità, in qualche modo, di favorire una socialità sana che, in qualche modo, convoca i cittadini a riconquistare quello spazio di territorio. Grazie. Grazie. Grazie.